Un buongiorno a tutti, bentornati, episodio numero 26 del corso di Java, quest'oggi vi diamo super velocemente il metodo toString, non perdiamo tempo, allora andiamo a creare subito una persona, quindi facciamo persona, persona, facilmente, new, persona, e andiamo a creare il solito nostro Luca Rossi, ormai lo conoscete tutti, siete abbastanza familiari con lui, Luca Rossi ha chiaramente 25 anni e il suo colore preferito è il blu, non in inglese. Perfetto, proviamo a mandare a schermo, proviamo a fare un system.out.println che sia e proviamo a mandare a schermo persona, cosa ci aspetteremmo di vedere? Io ve lo dico cosa mi aspetterei di vedere, io mi aspetterei di vedere quello che è il riassunto di questa persona, quindi mi aspetterei di avere a schermo il fatto che persona abbia come nome Luca, come cognome Rossi, età 25 e come colore preferito blu, soprattutto perché è arrivata a javascript o altri linguaggi di programmazione che fanno questa cosa, ma anche semplicemente a livello logico, cioè se io mando a schermo persona mi aspetto a vedere la persona in toto, giustamente, proviamo a farlo e abbiamo questo persona, et, eccetera. In realtà quello che otteniamo noi a schermo è la collocazione a livello di memoria, tra virgolette è come se fosse l'indirizzo in cui è salvato il nostro oggetto, che non ha niente a che vedere con quello che volevamo noi, noi volevamo semplicemente poter avere un riassunto di ciò che era il nostro oggettone, giusto? Era quello che mi aspettavo, soprattutto arrivando da javascript. Che cosa possiamo fare? Quindi in questo momento otteniamo questa cosa. Questa cosa qua la otteniamo anche se noi scriviamo toString. ToString, ve lo faccio rivedere, è un metodo che io non ho qua in persona, lo vedete? È un metodo che tutti gli oggetti ereditano, vedete? ToString, di default. Quindi ce l'abbiamo a prescindere. Qualsiasi sia la classe che noi creiamo, qualsiasi sia l'oggetto, otteniamo questo toString. Questo toString dà esattamente lo stesso risultato. Questo perché java, sia che noi scriviamo persone basta o persona toString, lo va ad applicare. Quindi se noi scriviamo così, gli va ad applicare toString. Se noi gli mettiamo toString, chiaramente lo stiamo dicendo, gli applica toString. Ma quello che otteniamo è totalmente diverso da ciò che noi ci aspetteremo e che vorremmo mandare a schermo. Quindi, che cosa possiamo fare? Possiamo andare qua, perché tanto lo ereditiamo e poi parliamo dell'eredità a breve. Sappiamo che abbiamo questo metodo, allora ne facciamo public string e lo andiamo semplicemente a sovrascrivere. ToString e vogliamo che il nostro toString ci faccia un recap di quello che è il nostro oggettone, perché potrebbe servirci giustamente. Quindi andiamo a fare una string e la chiamiamo stringa, semplicemente. E che cosa facciamo? Mandiamo a schermo un riassunto di quello che potrebbe interessarci. Quindi potremmo fare nome, dis.nome, piuttosto che più. Mandiamolo a capo, quindi per mandarlo a capo vi ricordate? Così slash n. Facciamo più. Mandiamo dis.cognome. Facciamo ancora più. Facciamo ancora n per andare a capo. Facciamo ancora più. Mettiamo dis.età. Ancora n. Ok? Facciamo così. Poi più e abbiamo dis.colore preferito. Qua ce lo suggerisce. Punto e virgola. E vedete che noi abbiamo il nostro toString. Qual è il fatto? Ci dà errore che deve ritornare qualcosa. Ok? Chiaramente deve ritornare una stringa. Quindi noi semplicemente andiamo a capo, qua, e andiamo a mettere return stringa. Adesso non ci dà più problemi e vi faccio vedere cosa succede. Quindi abbiamo fatto l'override del toString, non magari scritto così altrimenti non succede niente. ToString e abbiamo semplicemente creato la nostra stringa, che è un recap di quelle che sono le caratteristiche, o meglio gli attributi, del nostro oggetto. Quindi torniamo qua. Vedete? Tutto in check. Se io faccio così, play. Abbiamo Luca Rossi 25 e blu. Anche se io tolgo questo toString, esattamente lo fai in automatico come vi ho detto prima, basta. Abbiamo un recap di quello che è il nostro oggetto, che al momento è sicuramente più utile di quello che ci mandava a schermo prima, che era l'indirizzo dove veniva salvato di base il nostro oggetto nella memoria, che non ci interessava particolarmente. Così abbiamo un recap di quello che è il nostro oggetto. È una cosa abbastanza utilizzata, ci tenevo a spiegarvela, perché magari potreste vederla in giro. Niente di complesso, realmente. Se non l'avete capita, al momento non è essenziale. Potete andare oltre sicuramente. Più che altro l'utilità, al momento potreste non capirla, perché dovrei fare una cosa del genere. Ok? Se non l'avete capito, se avete capito almeno il funzionamento, ottimo. E se siete semplicemente titubanti sul perché dovremmo farlo, tenetevela in pancia questa cosa qua. Prima o poi, più avanti, ci tornerà questa utilità e lo vedrete. Ok? Alla fine va visto. Io ve lo posso spiegare in 600 modi diversi. Dovete vedere. Bisogna arrivare al momento in cui, ok, devo fare questa cosa. Come la risolvo? Facendo così. Ah, ok, perfetto. L'importante è che abbiate capito il funzionamento, ovvero che toString viene mandato a schermo ogni volta che noi scriviamo il nostro oggetto, oppure scriviamo oggetto.toString. Ogni oggetto ha toString. Noi semplicemente siamo andati qua e l'abbiamo ridefinito, mandando a schermo quello che ci interessava. Punto. Punto. Così. Direi che per oggi è veramente tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Sotto in descrizione trovate tutto ciò che serve per supportare il canale, se ci tenete particolarmente, e entrare nella community. Vi ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Ciao ciao!